Uomini e donne. Gossip. Giulia Latini esce a cena con Mattia Marciano. A uomini e donne può succedere di tutto, anche che una tronista decida di non scegliere poi se ne pensa. E secondo molti proprio questo sarebbe successo alla bellissima Desiree Poppernel constatare che il suo bel Mattia potrebbe già essersi consolato, addirittura con una ex corteggiatrice di Luca Onestini, ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo davvero tra questi due ex protagonisti del trono classico. Prima parte. Mattia Marciano e Giulia Latini a cena insieme. Mattia Marciano e Giulia Latini nello studio di Uomini e Donne sono stati sempre molto amici, al punto che in qualche frangente Luca Onestini è addirittura stato geloso di questa amicizia. Mattia, infatti, consigliava all'amica cosa fare e i due confabulavano spesso. Ora che entrambi sono fuori dal programma ed entrambi purtroppo non sono stati scelti, il loro legame si è ulteriormente rafforzato. Hanno cominciato a seguirsi su Instagram e soprattutto sono entrati a far parte della stessa agenzia, la The One, di cui fanno parte tanti altri ex di Uomini e Donne. Seconda parte. È nata una nuova copia, fin qui tutto normale, se non fosse che ieri sera Mattia Marciano e Giulia Latini erano a cena insieme, e a rivelarlo è stato lo stesso ex corteggiatore in una story di Instagram. Nel video compare anche una coppia di amici di Mattia, si trattava di un'uscita a quattro. Alcune persone che erano presenti nello stesso locale, però, hanno rivelato che in realtà la copia era arrivata al locale sola, e che aveva incontrato per caso gli amici di Mattia, non sedendosi tuttavia allo stesso tavolo, ma cenando separatamente, da soli inatteggiamenti confidenziali. Ultima parte. La reazione inaspettata di Desiree. La domanda sorge dunque spontanea, tra i due c'è solo un'amicizia o qualcosa di più, di certo la cosa non è piaciuta a Desiree Popper, che senza parlare o scrivere qualcosa direttamente, ha fatto però un gesto molto esplicito che è stato notato da più di qualcuno. L'ex tronista ha messo like a diversi commenti di fan che dicevano a Mattia che forse il suo interesse per la Popper non era poi così sincero, se dopo pochi giorni già ride e scherza e esce a cena con un'altra. Sarà un impeto di gelosia, o solo una ripicca, questa di Desiree, chissà. A presto con altre news da uomini e donne.